buongiorno ragazzi oggi vediamo come installare wordpress sul nostro sito che abbiamo creato su altervista.org questa è la home page del mio sito che userò come prova vediamo un pochettino che cosa andiamo a fare quindi cosa faremo scarichiamo la versione ufficiale in italiano di wordpress che cos'è wordpress lo vedremo poi in prossimi tutorial vi spiegherò cosa è wordpress come si usa adesso facciamo solo l'installazione trasferiremo il file di wordpress sul nostro sito pubblico quindi quello che anche voi avete creato io userò questo e lo metteremo però in una sottocartella non in una radice avvieremo l'installazione wordpress e lo configuriamo lo configureremo poi modificheremo il file index html per fare in modo che quando io digito il mio il mio percorso e il mio url automaticamente lumilanci wordpress che sta nella sottocartella allora che cosa ci serve per fare tutto questo ci serve il domini del supporto con php e mysql quello che voi avete creato è il supporto quindi va bene le credenziali accesso al pannello di controllo che sono quelle che vi hanno spedito qua quindi con queste credenziali di accesso quindi user name e password per accedere al pannello di controllo poi i file di wordpress zip prelevato al sito ufficiale quindi poi andremo a scaricare anche andremo a scaricare wordpress e poi ci servirà e poi le credenziali di accesso al database ma procediamo con l'ordine cominciamo dalla prima parte quindi poi giusto le credenziali queste qui le trovi vi faccio vedere poi dove stanno per accedere al database e poi un programma rispetto a dei file di ftp cioè per caricare i file che ci sono nello zip bisognerebbe usare un ftp noi per semplificarci la vita visto che wordpress mette a disposizione degli utility nel suo pannello di controllo non useremo file zip lo useremo direttamente lo faremo da dentro da dentro al tervista dentro il pannello di controllo allora cominciamo procediamo con ordine la prima cosa da fare è scaricare wordpress quindi cerchiamo wordpress download italiano andiamo qui questa è la community italiana di wordpress clicchiamo qui sopra e avremo scaricato il nostro wordpress e ce l'abbiamo qua wordpress 5.3.2 trattino it underscore it quindi è già la versione italiano di wordpress il secondo step da fare questa è la mia home page è andare su altervista.org e fare il login fare il login io sono già logato ma ovviamente compare la videata per il login e voi mettete ovviamente le vostre credenziali quindi nome utente e password e atterrate sostanzialmente qui dentro quindi cliccate qui atterrate qui dentro a questo punto che cosa devo fare devo recuperare le credenziali per il database se dovreste aver già attivato il database c'è un pulsativo per attivarlo andando qui dentro gestisci database trovate tutte le credenziali che vi servono per il database cioè dovete copiarvi queste informazioni localhost it is maio password vuota quindi non la metterete e poi il nome del database my underscore it is maio il vostro sarà my underscore il vostro nome e cognome comunque trovate qui tutte le informazioni a questo punto possiamo procedere torniamo nella bacheca andiamo in gestione file andiamo in invia file andiamo in invia archivi compressi facciamo seleziona file andiamo nella nostra cartella di download l'abbiamo caricato abbiamo scaricato wordpress facciamo apri e a questo punto non so se è già pronto si facciamo invia il file e attendiamo benissimo ha finito di caricarlo torniamo indietro upload completato ecco qua quindi l'ha fatto torniamo indietro e andiamo a vedere cosa è successo ecco qua ha creato una cartella che si chiama wordpress qui dentro ci sono tutti i file di wordpress bene adesso io voglio fare una cosa prima di fare prima di iniziare l'installazione quindi saliamo di un livello cliccando qua si sale di un livello riauminiamo la cartella perché wordpress è troppo lungo voglio chiamarla semplicemente allora questa la eliminiamo e facciamo un rinomina quindi questa cartella anziché wordpress la chiamiamo wp1 ok quindi adesso noi abbiamo tutti i file di wordpress dentro wp1 passiamo all'installazione bene allora prima di passare all'installazione vi faccio solo vedere una cosa sul database cliccando qua su acdphpmyadmin questo è il tool che viene messo a disposizione per gestire il database questo è il mio database come vedete purtroppo ci sono un sacco di cose perché io l'ho già usato il vostro in teoria dovrebbe essere completamente vuoto quindi qui non dovreste vedere assolutamente nulla ve lo dicevo solo per non confonderli quando poi andremo a vedere cosa è successo allora andiamo qui come si fa a fare l'installazione è sufficiente scrivere il nome del itismayo.intervista.org slash doppio wp1 che è la cartella dove è installato wp qui di dentro lui troverà un file che gli avvierà l'installazione eccolo qua è partita l'installazione vedete wp1 wp-admin setup.config.php benvenuto in wordpress prima di iniziare abbiamo bisogno di alcune informazioni nome del database dovete sapere come si chiama il nome utente nel mio caso è itismayo la password database che nel mio caso è la password water il nome del database è my underscore itismayo l'host del database che è il localhost prefisso tabella noi daremo un prefisso lo chiameremo con molta fantasia doppio wp1 iniziamo andiamo avanti ok nome del database qui lui da un suggerimento quindi qui lui suggerisce ma noi lo chiameremo cioè lo chiameremo siamo obbligati a chiamarlo così perché è il database che mi dà altervista si chiama così quindi non è che posso dare un nome diverso my itismayo perché il mio si chiama così il vostro sarà my underscore cognome e nome nome utente abbiamo detto che è in mio caso itismayo la password è vuota quindi non mettiamo niente host database va bene quello e qui il prefisso vedremo che lui creerà una serie di tabelle cioè usa i database wordpress per gestire tutte le sue informazioni template eccetera lui mette già di default wp quindi le tabelle stanno tutte wp qualche cosa gli aggiungiamo un piccolo 1 davanti wp1 underscore in modo tale che se voglio installare una seconda versione di wordpress posso chiamarla wp2 sempre nello stesso database saranno tabelle duplicate ma cambiando il prefisso saranno in realtà diverse bene andiamo avanti ottimo lavoro amico quindi lui ha controllato che effettivamente il database esiste e dice sono pronto avvia l'installazione ok bisogna dare un titolo del sito per esempio itismayo nome dell'utente allora importante il nome dell'utente questo qui è l'amministratore del sito cioè sarà poi quel colui che potrà accedere al back-end di wordpress per configurare il sito fatto con wordpress quindi scriverò admin e qui metterò una password qui è una password complicatissima mettiamo una password adesso la nascondo così voi non la vedete mettiamo una password classica ok molto debole e pazienza andiamo avanti conferma l'uso della password debola quindi se ti avvisa guarda hai messo una password che è facilmente trovata insomma si può si può bucare mettiamo la mail mail.com la mail conviene metterla corretta perché se devono arrivare dei messaggi eccetera arrivano realmente poi i messaggi visibilità scoraggio motore di ricerca effettore indicato cioè qui no noi vogliamo che venga indicizzato dai motori di ricerca quindi non lo voglio scoraggiare installa wordpress quindi ho dato tutte le informazioni l'importante è che vi ricordate questi due qui è il nome utente e che password avete messo a questo punto parte l'installazione aspettiamo perfetto l'ha già fatto vedete con gratulazione è già pronto quindi il nostro sito in wordpress è già pronto qui mi manda sul pannello di controllo io scrivo admin metto la mia password faccio il login e voilà questo che vedete è il back end cioè la da parte di amministrazione del sito invece se voglio vedere il sito originale cioè quella parte pubblica del sito questa è la parte pubblica del sito lui ha già impostato un sito insomma fatto così non è bellissimo fa abbastanza schifo ma poi vedremo come cambiare per il momento abbiamo visto il primo step va bene? ok bene adesso vogliamo vedere come per esempio fare in modo che quando io scrivo itismilealterrista.org non capiti non atterri su questa pagina ma atterri direttamente su wordpress allora per fare questo bisogna andare a modificare il file index allora cominciamo a cercare come si fa a fare il reindirizzamento di una pagina scrivete questo nel motore di ricerca prendiamo il primo link che ci ha tirato fuori un comando per fare il reindirizzamento è questo ce lo copiamo così perfetto lo copiamo e poi andiamo dove dobbiamo andare andiamo qui nella nostra bacheca andiamo a prendere nella radice il file index.html che sta qua eccolo qui e facciamo modifica questo è il file è questo qua quello che si vede qua aggiungiamo questo comando ctrl v questo comando vedete fa il refresh e caricherà questo url quindi noi dobbiamo dirgli che lui deve andare su itismayo punto altervista altervista punto org in una cartella in una cartella che si chiama wp1 non metto il file index perché tanto il file index c'è già ok questo numerino qui e dopo quanti secondi avviene questa cosa allora adesso per vedere l'effetto mettiamo 5 secondi poi eventualmente possiamo cambiarlo facciamo un'applica il file index è stato salvato proviamo a ricaricare la pagina vediamo che cosa succede ho comparso un copia qui dentro beh l'ha fatto l'ha fatto ma c'è un errore è comparso un copia lì dentro cos'è sto copia ah mannaggia da dove è uscito fuori sto copia togliamo come vedete ha fatto il reindirizzamento quindi se io torno indietro anzi se io clicco qua così tolgo il wp lui atterra qui ma dopo 5 secondi viene reindirizzata la pagina al mio sito wp vedete l'ha fatta in automatico io non ho fatto niente ovviamente se non voglio aspettare 5 secondi basta andare a cambiare questo numerino qua basta mettere 0 e lui cercherà di farlo prima possibile direi che abbiamo concluso qui vi faccio solo vedere che cosa è successo all'interno del database all'interno del database siamo qui ha installato tutta una serie di cartelle allora le cartelle di Warper sono tutte quelle che cominciano col prefisso wp1 vedete wp1 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 per esempio nella wp1 user ci sono vedete c'è la mia admin la mia password crittografata il mio indirizzo email che sono quelle informazioni che ho inserito quando ho fatto l'installazione qui c'è la data in cui è stata registrata 31.3.2020 alle 14 l'orario è un po' strano non è giusto va bene direi che per il momento possiamo fermarci qui abbiamo visto come installare WordPress abbiamo fatto tutto questo lavoro in maniera molto molto semplice quindi abbiamo fatto i 4 punti nelle prossime puntate vedremo come configurare WordPress e utilizzarla al meglio alla prossima